Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del Tg6 in apertura l'emergenza sanitaria. Partiamo dai dati del bollettino regionale che registra un sostanziale equilibrio per quanto riguarda la pressione sulla rete ospedaliera, anche se nel dettaglio continua la discesa dei posti letto occupati nei reparti di medicina Covid. Sono 573, meno 4 rispetto a ieri, però si assiste a un lieve aumento dei ricoveri in terapia intensiva, 3 in più che portano il totale a 71. Sul fronte delle nuove positività emerse dall'analisi di 4529 tamponi molecolari e 1974 antigenici, sono 225 i nuovi pazienti Covid con un tasso di positività complessivo a tutti i test del 3,7%. Nelle ultime ore purtroppo continuano a registrarsi decessi, sono 15 i pazienti che non hanno superato la malattia. Il totale delle vittime da inizio emergenza sale così a 1.166. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono invece 10.299 e scendono di 41 unità rispetto a ieri, così come in calo sono le persone in isolamento domiciliare. Le località con più casi sono Avezzano con 19, Vasto con 16, 15 casi all'Aquila e 11 a Pescara. A livello provinciale l'incremento più consistente si registra nell'Aquilano 89, seguito dal Chietino 60, dal Terramano 46 e dal Pescarese 30. Continua a scendere in Abruzzo l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti, al momento è pari a 145 a fronte di una soglia d'allarme fissata a 250. La situazione migliore si registra in provincia di Pescara con un'incidenza pari a 83 in rapida discesa, poi il Chietino, il Terramano e l'Aquilano. E chiaramente fare i puntati sulla campagna vaccinale che prosegue nonostante le difficoltà legate all'approvvigionamento delle dosi. Facciamo il punto con questa intervista al Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Sui vaccini stiamo andando avanti, adesso concluderemo gli accordi anche con i farmacisti, è partita la vaccinazione anche da parte dei medici di medicina generale che verranno progressivamente implementati, a breve completeremo anche il meccanismo di adesione alla piattaforma di poste italiane per la prenotazione, quindi stiamo vaccinando nella media nazionale, la campagna procede sperando che non ci siano più difficoltà di approvvigionamento perché per quanto ci si continui a rassicurare verbalmente il fatto che i vaccini arrivino, purtroppo c'è sempre una qualche incertezza nella distribuzione ma io spero, insomma, i segnali degli ultimi giorni sembrano andare verso questa strada positiva che la situazione è migliore e ci permetta di fare una pianificazione più tranquilla e più robusta di quanto non si sia potuto fare fino ad oggi. E per quanto riguarda la vaccinazione vedremo quali saranno gli effetti e se ci saranno della morte di una 83enne un'ora dopo la somministrazione di una dose del vaccino Pfizer, la procura di Lanciano infatti ha aperto l'inchiesta per questa morte una donna, come detto, di 83 anni, Celestina De Santis, decesso avvenuto ieri, un'ora dopo la seconda dose del vaccino anti-covid la vaccinazione avvenuta nel poliambulatorio di San Vito Chietino in provincia di Chieti prima di mezzogiorno dopo l'attesa di un quarto d'ora per eventuali reazioni siamo ripartiti in macchina ha raccontato a Lanza Sonia la figlia della donna ma dopo pochi minuti la madre si è sentita male una volta allertati i sanitari del 118 si è tentata la rianimazione con il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Lanciano dove poi la 83enne è morta il PM Francesco Carusi ha incaricato il medico legale Domenico Angelucci di effettuare l'esame autoptico che si terrà mercoledì 7 aprile al servizio di anatomia patologica di Chieti per verificare le cause del decesso e se c'è eventuale correlazione con la vaccinazione Noi adesso proseguiamo con le restrizioni per quanto riguarda questo weekend di festa tutta l'Italia lo sapete è zona rossa per Pasqua il fine settimana è contrassegnato da divieti e restrizioni anche nella nostra regione che al termine tornerà zona arancione nel frattempo con l'arrivo della bella stagione sempre meno persone rimangono diligentemente in casa e si fa fatica chiaramente a rispettare i divieti che ormai sono in vigore da oltre un anno vediamo il servizio di Giuseppe Dintino Una Pasqua blindata da divieti e restrizioni le celebrazioni della maggiore festività cattolica saranno limitate anche quest'anno dalle normative anti-covid in un'Italia tutta rossa fino al 5 di aprile a partire da martedì alcune regioni torneranno in zona arancione la zona gialla invece per decisione del governo Draghi è sospesa per tutto il mese di aprile anche laddove come in Abruzzo l'indice di contagiosità RT è sotto l'1 per il pranzo di Pasqua il governo raccomanda di non accogliere a casa parenti e amici che non siano conviventi e bisognerà tentare di rispettare tutte le normative di sicurezza anche a tavola vietate invece le tradizionali scampagnate di Pasquetta via libera alle liturgie religiose durante la messa però il consueto segno di pace fa sapere la conferenza episcopale non può essere scambiato con la stretta di mano ma con un inchino guardandosi negli occhi è comunque consigliabile soprattutto per i soggetti fragili seguire le funzioni in streaming nel weekend gli spostamenti verso abitazioni private sono consentiti una sola volta al giorno nel limite massimo di due persone esclusi minori di 14 anni e disabili purché non si oltrepassino i confini regionali sono invece consentiti viaggio all'estero con tampone alla partenza e al rientro isolandosi per 5 giorni dal ritorno in Italia dalla prossima settimana inoltre in Abruzzo riapriranno le scuole il messaggio che io voglio mandare è innanzitutto di un augurio di speranza ai nostri corregionali e seguire più attentamente quelle regole perché come sono stati bravi attenti nei mesi precedenti adesso non dobbiamo vanificare il sacrificio messo in atto e la Pasqua sembra aver portato con sé la primavera il bel tempo e le temperature confortevoli di questi giorni amplificano il senso di sacrificio di chi si rinchiude in casa e in molti nel weekend si sono riversati sulle spiagge e nei parchi ad approfittare del primo sole anche per questo occorre velocizzare il più possibile la campagna di vaccinazione che si è organizzata con criterio la data entro la quale tutti in Abruzzo dovrebbero essere vaccinati è slittata al termine dell'estate riguardo alle somministrazioni siamo nella media nazionale ha dichiarato laveri senz'altro siamo nella media nazionale è anche vero che ci sono persone che non stanno rispondendo per quanto riguarda la somministrazione di AstraZeneca però c'è una grande adesione il nostro bisogno è quello di avere vaccini vaccini soprattutto per i fragili abbiamo concluso quel protocollo che avevamo presentato come piano vaccino alcune ALS l'hanno concluso anche in tempi veloci qualche altro ALS lo sta concludendo in questo momento però faccio l'esempio del personale scolastico, docente e non che sono stati già tutti vaccinati quindi si sta proseguendo secondo le fasce, le categorie descritte e in questo weekend di Pasqua chiaramente fare i puntati sulle città abruzzesi più grandi tra le quali chiaramente Pescara dove saranno inaspriti i controlli da parte delle forze dell'ordine parchi chiusi con il sindaco Masci soddisfatto per le misure adottate finora e che dice che il rischio di contagi durante le feste sarà tenuto sotto controllo Paolo Lorenzetti nei giorni delle festività di Pasqua tutta l'Italia sarà zona rossa ovviamente zona rossa in Abruzzo e nella città di Pescara con controlli rafforzati sindaco per evitare assembramenti di ogni genere questo sì però diciamo che con soddisfazione i numeri di Pescara oggi sono molto molto contenuti evidentemente le azioni che abbiamo posto in essere hanno funzionato per la città che è sempre più a rischio di tutte le altre perché è una città che ha una grande densità abitativa, ha molte presenze lavorative e quindi è una città a rischio però questo rischio lo abbiamo tenuto sotto controllo e oggi i dati ci confortano molto ma questo non vuol dire che possiamo e dobbiamo abbassare la guardia dobbiamo fare più controlli in questi giorni per evitare che quelli che pensano da un anno che possono fare quello che vogliono continuino a farlo oramai la gente ha capito perfettamente come si deve comportare a Pescara ci sono sempre questi irriducibili che noi controlleremo grazie all'azione del prefetto, del questore perché il tavolo per la sicurezza si riunisce costantemente i parchi e aree verdi della città saranno chiusi? i parchi e le aree verdi saranno chiusi perché in questo momento è così purtroppo è così, dobbiamo evitare incontri, dobbiamo evitare assembramenti dobbiamo evitare tutte le situazioni a rischio e lo facciamo anche chiudendo in questo momento i parchi per i giorni pasquali un aiuto potrebbe arrivare dal meteo perché nei giorni di Pasqua della vigilia di Pasqua è previsto maltempo questo mi dispiace perché Pescara con il sole assume tutta un'altra caratteristica tutto un altro aspetto, Pescara è una città solare anche in questo periodo purtroppo di pandemia poi a Pescara almeno 60.000 persone vivono in prossimità della riviera in prossimità della spiaggia quindi se qualcuno scende da casa per fare una passeggiata cosa prevista dal decreto Draghi è previsto da tutte le norme anche in zona rossa almeno uno sfogo per poter camminare il sindaco lei vuole ovviamente approfittare dell'occasione per fare gli auguri a tutti i cittadini pescaresi sì io faccio gli auguri di una buona Pasqua di una Pasqua serena, felice insieme ai familiari per quanto possibile sperando che questa pandemia ci lasci presto attraverso i vaccini a tutta la popolazione l'impegno mio è quello di vaccinare in tempi brevi tutti quanti abbiamo messo a disposizione della ASS una struttura che è in grado di fare tanti vaccini e quindi di fare in tempi brevi la vaccinazione a tutti i pescaresi auguri, auguri, auguri adesso una notizia di cronaca spacciava in una casa di Montesilvano sperando di essere protetto dalle telecamere di sorveglianza ma è stato scoperto e arrestato dalla Polizia di Stato gli agenti hanno sequestrato un chilo e mezzo di cocaina e quasi lo stesso quantitativo tra marijuana e hashish l'uomo, 49enne originario del Foggiano è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti gli investigatori della mobile di Pescara diretti dal vice questore Dante Cosentino sono entrati per la perquisizione dopo aver visto uscire dall'appartamento un giovane che aveva appena acquistato della cocaina in una cassaforte l'uomo custodiva oltre 8.700 euro in contanti su disposizione della magistratura al 49enne è stata applicata la misura cautelare in carcere ed è stato ristretto a vasto in attesa della convalida e noi adesso andiamo avanti parlando di scuola nell'anno scolastico 21-22 saranno poco meno di 167.000 a fronte degli attuali 169.000 gli studenti che frequenteranno le scuole pubbliche abruzzesi un calo preoccupante per la FLC-CGL di Teramo che va combattuto attraverso la soluzione di nodi annosi strutturali della scuola consolidando ad esempio l'organico docente e non docente il servizio prosegue il calo preoccupante degli studenti nelle scuole pubbliche del Teramano quest'anno sono stati 39.000 il prossimo anno saranno 38.413 in tutta la regione per l'anno scolastico 2021-2022 sono previsti 2.073 all'unni in meno saranno poco meno di 167.000 a fronte degli oltre 169.000 dello scorso anno scolastico le studentesse e gli studenti che frequenteranno le scuole pubbliche abruzzesi queste le stime della FLC-CGL Teramo con la provincia che paga un tributo salato a queste riduzioni inferiore solo a quella di Chieti che perderà 990 all'unni mentre 380 a Pescara e 116 l'Aquila un dato che da solo documenta il persistente aumento della denatalità delle migrazioni dalle aree interne che si accompagnano ad un esodo diffuso delle nuove generazioni si tratta di una vera e propria emergenza che dovrebbe determinare interventi di lungo periodo con proposte che affrontino i nodi strutturali di questi problemi le scuole stanno affrontando un periodo emergenziale ed anche per le iniziative sindacali la dotazione organica di diritto dei docenti resta confermata diminuiscono alcuni posti per la riduzione degli istituti professionali aumentano nel sostegno con 32 cattedre aggiuntive qualche imposto in più, solo 7 cattedre si avrà nella scuola dell'infanzia con l'organico potenziato il prossimo anno continua la FLC-CGL Teramo non sarà regolare, la pandemia farà ancora sentire i suoi effetti pertanto è importante consolidare un organico docente e data che consente di poter fare scuola rispettando i requisiti di distanziamento della sicurezza e dell'offerta formativa di qualità abbiamo chiesto, continua il sindacato, all'amministrazione scolastica di confermare il potenziamento dell'organico che in tempi di Covid-19 è stato dato spostandolo nell'organico di fatto evitando così problemi contrattuali di disponibilità finanziarie non può trattarsi di una misura occasionale per tamponare l'emergenza dovrebbe essere invece strutturale per affrontare le tante criticità territoriali presenti in provincia occorre per questo una programmazione di medio periodo e non continuare a distribuire gli organici in base al numero degli alunni che si iscrivono per evitare che si ripetano i problemi di quest'anno il sindacato su questi temi chiede all'ambito territoriale di Teramo di attivare subito l'informativa e di accogliere le richieste delle scuole per avere organici adeguati in base al tempo scuola che vogliono offrire capaci di garantire una ripartenza in sicurezza e dare agli studenti e alle studentesse una scuola pubblica di qualità Andiamo in provincia di Pescara a Scafa dove sono tornati i resti di un'antica tomba romana di età imperiale vediamo Nei giorni che precedono la Pasqua Scafa vivrà delle ore importanti la storia di questo paese viene alla luce grazie all'arrivo di alcuni reperti storici Ci è stato fatto un bellissimo regalo per Pasqua dalla parte della sovraintendenza che colgo l'occasione per ringraziare con grande affetto e stima Ritornano a Scafa i resti di una tomba di epoca imperiale primo secondo secolo dopo Cristo sono i resti di una tomba che con ogni probabilità era la tomba di un cavaliere di un guerriero e ciò è desumibile dalle immagini che sono incise sulla roccia scudi, lance, corazze è ovvio che rappresenta un momento storico per il nostro paese dimostra che Scafa sì è un paese dalla storia recente ma è un paese che probabilmente ha delle radici antiche dimostra che il nostro territorio aveva un'importanza strategica in epoca romana d'altro canto le miniere erano utilizzate dai romani che lavoravano la roccia luminosa per vari fini tra i quali anche quelli della impermeabilizzazione degli scafi quindi il territorio fruirà di questo ritorno e avrà anche un'importanza dal punto di vista turistico non dimentichiamo che dalla stazione nei pressi del quale c'è il convento delle Clarisse che ospiterà questi resti partirà a breve una pista ciclabile che partendo appunto dalla stazione raggiungerà la miniera di pilone in territorio di Abbateggio quindi capite bene l'importanza strategica, culturale e sociale di questo rudere che verrà posizionato all'interno dell'ex cappella delle Clarisse di Scafa Adesso la pagina dello sport partiamo dal calcio e dalla Serie B successo fondamentale ieri per il Pescara contro il Pisa a poche ore da due trasferte difficili a Pasquetta l'impegno contro il Monza e poi sabato a Rigamonti contro il Brescia ma il DS biancazzurro Antonio Bocchetti sprona i suoi a questa difficile rincorsa verso la salvezza sentiamo una vittoria meritata contro una grande squadra una squadra in salute perché il Pisa era una squadra in salute una squadra che aveva fatto tanti punti nelle ultime gare siamo stati bravi soprattutto l'allenatore e il mister sono stati veramente bravi perché hanno preparato la partita le ultime ore della rifinitura perché abbiamo avuto un problema con Drudi e quindi ha dovuto cambiare modulo e diciamo che sono stati veramente bravi Cosa è cambiato da Vicenza? Perché Bocchetti aveva detto al 91esimo squadra che quasi non è scesa in campo così non va bene non è questo il modo di giocare le partite passano dieci giorni c'è la sosta e oggi col Pisa abbiamo visto in campo un'altra squadra Ma sono sempre le approcci delle partite noi sbagliamo sempre l'approccio della partita sia con il Vicenza sia con l'Ascoli che con il Pordenone abbiamo sempre questi primi 10-15 minuti che non entriamo in partita invece oggi si è visto dall'inizio che la squadra ha fatto sicuramente meglio quindi l'inerzia della partita la sposti verso di te quindi era tutto un pochettino più semplice Qua ci sono queste due trasferte tutt'altro che agevoli però quest'oggi si è vista una squadra diversa e l'augurio che possa essere così anche delle prossime gare soprattutto l'approccio, la cattiveria e quello che oggi i ragazzi hanno messo in campo l'emblema, il gol di rabbia segnato da Macinne per esempio Sì, bisogna trasportare tutto quello che abbiamo fatto oggi nelle prossime partite che andiamo a affrontare Monzo e Brescia che sono due squadre importanti però anche noi siamo una squadra importante dobbiamo crederci e portare qualcosa in più perché affrontiamo due signore squadre Siamo contanti siamo in emergenza, in fase difensiva però ormai ci siamo quindi dobbiamo cercare di fare qualcosa in più sperando che non ci siano altri problemi però purtroppo questa è la situazione abbiamo tre centrali di ruolo fuori per fortuna che in queste settimane è arrivato pure Volta sperando che Gut in settimana possiamo mettere dentro quindi recupereremo altri due giocatori per noi importantissimi a livello anche numerico però se la situazione è questa bisogna affrontarla e cercare di fare il meglio possibile è normale criticare anzi sono stati anche molto buoni molto educati ci danno sempre sostegno è normale che quando le cose vanno male la squadra, la società viene criticata ma è giusto che sia così siamo nelle zone basse della classifica ci aspettiamo degli applausi è normale che ci sia un piccolo disappunto nei nostri riguardi però la squadra la dobbiamo isolare il più possibile per cercare di portare un po' di positività e oggi c'è stata e quindi dobbiamo portare questo nelle partite che andiamo a affrontare adesso la Serie C match questo pomeriggio al Bonolis fra Teramo e Turris vittoria scaccia crisi per i biancorossi che venivano da tre sconfitte consecutive vediamo tutto nel servizio di Ania Cantagalli reazione doveva esserci e reazione c'è stata dopo tre sconfitte consecutive il Teramo torna a vincere battendo 2-1 la Turris riuscita anche ad agguantare il momentaneo pareggio Paci va sostanzialmente avanti per la sua strada e fa solo due variazioni rispetto a quella che è ormai la formazione consueta c'è Di Francesco al posto di Lari che consente anche al Teramo di fare minutaggio e Lassic in difesa al posto di Vittorini Cap e Beligea recuperati vanno invece in panchina nella Turris rientra Loreto nell'undici titolare dopo la squalifica con Giannone e Romano a supporto di Longo nel 3-4-2-1 per più di 25 minuti c'è ben poco da raccontare sia dall'una che dall'altra parte l'unica volta che Teramo si presenta dalle parti di Abagnale e al settimo Lassic inizia l'azione e ci crede in filo in fondo nel poter mettere in mezzo un pallone che Pinzauti non sfrutta come avrebbe dovuto poi Di Francesco al 28esimo porta avanti la sfera bevendosi un avversario e chiamando Costa Ferreira in mezzo alla più semplice delle conclusioni il portoghese però spara molto più in alto rispetto allo specchio della porta dopo poco è la Turris a rispondere ma Tascone non inquadra gli ospiti in generale non rinunciano a proporsi di manovra o provando a sfruttare le ripartenze con i brevilini davanti al 38esimo è Di Francesco ad avere un buono spunto in aria trovando però esempio a murargli la conclusione al 42esimo l'occasione più pericolosa della Turris è direttamente da calcio d'angolo con Giannone che con il mancino per poco non trova un gran gol ma scheggia solo in parte la traversa la Turris sembra iniziare meglio il secondo tempo al sesto romano fa partire un tiro che dà solo l'illusione del gol fortunatamente per il Teramo il vantaggio del diavolo però arriva pochi istanti dopo con Bombaggi che taglia l'azione e confeziona l'assist che questa volta Costa Ferreira col mancino non può sbagliare per il suo sesto centro stagionale al decimo è Bombaggi a provarci da fuori aria con palla che si alza di poco sopra la traversa l'1-0 dà comunque alla formazione di pace nuovi stimoli per andare in avanti con più convinzione al diciannovesimo Santoro scende sulla sinistra ed è ancora Costa Ferreira a seguire l'azione e provarci d'esterno mandando però a lato i campani fanno fatica nella ripresa a proporsi dalle parti di Lewandowski così dalla panchina si alzano via via l'ex Ferretti Alma Boicciuk e Signorelli e proprio dall'ex Biancorosso passa il gol della Turris che sale bene poco dopo la mezz'ora Ferretti mette in mezzo per Alma che tocca quanto basta per battere Lewandowski e firmare l'1-pari Chiamateng per Pizzauti e Mungo per Costa Ferreira sono la risposta di Pace al pareggio della Turris tecnico che in precedenza aveva già chiamato in campo Billigea per Di Francesco arrivalsa dal Teramo però passa da Bombaggi che al 42esimo riceve il giro di testa un bel cross di Billigea alle spalle di Abagnale rimasto a metà strada e il nuovo vantaggio del Diavolo il settimo centro per l'ex Bordenone e soprattutto il gol che riporta i Biancorossi alla vittoria che al Bonolis mancava dal 28 febbraio domenica prossima in casa della Cavesa ad ora di pranzo mancherà Tentardini a Monito e già in diffida sull'1-1 credevo fortemente che potevamo vincere la partita perché ho visto il fuoco nelle teste e nelle pance dei ragazzi quindi ero straconvinto che saremmo arrivati a vincere la partita e quindi quando abbiamo pareggiato ero sereno lo dico in maniera molto onesta questo non è un fattore solo per me ma per tutti gli allenatori quando hanno a disposizione più giocatori da poter far subentrare è tutto più semplice che Rima Teng veniva da tre mesi di inattività e aveva bisogno di tempo Birlic è stato tre mesi fuori insomma e quindi sì quando ho i ragazzi a disposizione per me è tutto molto più semplice abbiamo affrontato una squadra forte secondo me avevamo di fronte un'ottima squadra allenata molto bene faccio i complimenti al loro allenatore perché Bruno Caneo è un allenatore di dispessore secondo me e la mia squadra è stata interpretata in maniera perfetta la partita e poi siamo stati bravi ad ottenere la vittoria andiamo avanti abbiamo vinto questa partita siamo molto contenti in questa settimana siamo stati criticati fortemente la squadra è stata criticata pesantemente fortemente e io sono molto orgoglioso di questi ragazzi ma sono orgoglioso soprattutto dello spessore umano di tutti i ragazzi che ho a disposizione non solo della caratura tecnica perché non sono io che devo metterla in luce lo sappiamo la loro forza ma del loro spessore umano che hanno risposto sul campo a tutte queste critiche perché non c'era maniera migliore per loro di dimostrare il loro spessore umano di rispondere sul campo a queste critiche io di questi ragazzi vado fiero e credo che in molti dovrebbero essere fieri di loro e di come lottano per questi colori possiamo aver avuto qualche battuta d'arresto lo so ma è proprio in quei momenti che i ragazzi vanno sostenuti ed appoggiati se si crede in loro quello che noi come gruppo squadra abbiamo fatto sempre ragazzi di uno spessore umano oggi hanno dimostrato di essere di uno spessore umano per me di un'altra categoria adesso la serie C dopo il turno infrasettimanale di questa settimana con Jacopo Forcella andiamo a fare il punto della situazione dieci giorni di stop prima di riprendere il campionato domenica prossima è una Pasqua che col turno di giovedì ha ridisegnato inevitabilmente le gerarchie del girone F di serie D che ha ormai una candidata d'obbligo al successo finale il campo basso dopo il successo nello scontro diretto con il notaresco la squadra di Epifani non resta per cercare la rimonta che sperare che i molisani inciampino da qui alla fine del campionato anche se l'undici di Mirko Cudini ha dato una sensazione di forza che in casa notaresco non lascia sperare granché la distanza in teoria non è incolmabile ma lo scontro diretto potrebbe lasciare delle scorie dal punto di vista psicologico in più c'è il grave infortunio occorso a Lorenzo Bianciardi a complicare ulteriormente le cose da qui alla fine del torneo e allora ben venga qualche giorno di pausa in attesa della trasferta di Castelfilardo di domenica prossima non abbiamo giocato come sappiamo però non posso dire nulla ai ragazzi perché stiamo disputando un grande campionato e i numeri parlano chiaro oggi effettivamente non siamo stati noi sarà stato merito anche del campo basso anzi voglio fare i complimenti oggi al campo basso perché credo che la vittoria l'abbia meritata nettamente quindi noi però siamo io sono orgoglioso di quello che stanno facendo i ragazzi perché il nostro obiettivo era quello di di giocarci il campionato possibilmente fino alla fine ci stiamo riuscendo quindi il campionato è ancora lungo possiamo dire ancora qualcosa anche noi si diceva del campo basso capolista in ogni caso in questo momento anche tenendo conto del recupero in più che dovrà disputare il notaresco i molisani alla ripresa proveranno a consolidare un cammino con poche svavature tra le muramiche contro quel Castelnuovo che vinse all'andata non senza polemiche nero verdi che però ritroveranno il capocannoniere della squadra il leader della manovra Massimo Loviso che rientrerà dopo due turni di stop nei quali l'undici di Guido Di Fabio non è mai andato a segno 0-0 a Montegiorgio 0-1 giovedì col Matese pericolosità ridotta davanti vuol dire necessità di non prenderle altrimenti la sconfitta è dietro l'angolo e con il risveglio imponente della Cinzia al Balonga il terzo posto è tutto da giocare e vede i laziali adesso favoriti oltre che avanti di un punto non è che manca la lucidità manca la cattiveria perché agonistica in tutte le situazioni non devono essere cattivi solo i difensori o i centrocampisti bisogna essere cattivi in tutte le cose che facciamo e quando capitano delle palle goal da buttare dentro come ci è successo oggi nel primo tempo soprattutto dobbiamo avere la cattiveria di voler far goal forse l'unica cosa che ci è mancata oggi è quella perché al cospetto di una squadra che viene da tanti risultati positivi penso che oggi il Castelnuovo abbia fatto la partita per tutti i 90 minuti giorni di pausa che serviranno alla vastese per cercare di recuperare tutti i componenti dell'organico alcuni dei quali le prese con il virus gli aragonesi non giocano dal 28 febbraio scorso due a due col fiuggi tra le mura amiche poi quattro rinvii Pineto Aprilia Agnonese e Castelfidardo alla ripresa a Montegiorgio non dovrebbero esserci però problemi e domenica continuerà a Rieti la marcia della Giulianova nella rincorsa alla permanenza in categoria i giallorossi sembrano essere diventati estremamente solidi e davanti in grado comunque di trovare sempre una soluzione pericolosa Barlafante sembra trascinare la squadra Paudice acquota 8 gol e nelle ultime settimane anche Massetti dà l'impressione di poter essere decisivo a ridosso della porta avversaria l'intensità è mancata un po' meno sarà forse anche un po' il caldo sia per noi anche per loro il primo caldo della stagione perché oggi faceva veramente caldo ma comunque la squadra loro l'hanno fatta è vero un pareggio che magari potrebbe potrebbe servire a poco ai fini della classifica però noi siamo una squadra l'abbiamo dimostrato anche oggi di essere bella viva e intraprendente cercheremo fino alla fine di venire fuori da questa situazione non ci sarà grande pausa per il Pineto che mercoledì invece recupera uno degli otto match saltati a Montegiorgio il ritorno sul campo dopo il lunghissimo stop come prevedibile non è stato semplice per i biancazzurri di Marco Pomante due pareggi una sconfitta e la necessità di cambiare marcia prima possibile per non rimanere invischiati per troppo tempo in una posizione non abituale per una squadra costruita ad inizio anno per avere ben altri obiettivi ci abbiamo provato io ragazzi non gli posso dire nulla io ripeto a differenza della settimana scorsa potevo rimproverare qualcosina loro io questa settimana questa partita non posso rimproverare nulla ragazzi perché ci hanno provato fino alla fine sono stati bravi a ribaltare il risultato dopo l'1-1 loro perché sai in questa situazione non è facile come la settimana scorsa va in vantaggio ti pareggiano siamo stati bravi a reagire poi come ho detto prima quel rigore che però può capitare può capitare al nostro favore o al nostro sfavore questo è il calcio chiudiamo con una notizia di calcio a 5 e non è una notizia positiva per la nostra regione come leggete con un turno d'anticipo la Colormax Pescara retrocede in serie A2 pesante la sconfitta odierna a Mantova per 7-1 Colormax Pescara che comunque disputerà la Final 8 di Coppa Italia vi ricordiamo anche che il big match fra Acquessapone Unigros e Pesaro è stato rinviato a causa del Covid termina qui il TG6 io vi ringrazio per averci seguito da parte mia e di tutta la redazione gli auguri di una buona Pasqua e di tutta